Le mamme delle famiglie più povere uscivano, girano i trasporti, quindi nei paesi più vicino non venivano riconosciuti, uscivano dal mattino presso, si coprivano con uno scialle per non farsi vedere ancora di più, no? E andavano nei paesi vicini e dicevano, chiedevano delle mose, non i soldi, usavano una volta con il sacco, dai un tozzo di pane, sono una povera mamma, quando erano nel sacco, ritornavano a casa, svuotavano il sacco sul comune, il pane sul comune, il pane più duro bagnavano, e dicevano figli miei, prendete e mangiatevi tutti. Figgli miei, ho stato appena di indaracesta, figli miei, non lo tocchete, l'uomo è stato appena di indaracesta, figli miei, non lo tocchete, l'uomo è stato appena di indaracesta, figli miei, non lo tocchete, l'uomo è stato appena di indaracesta, figli miei, non lo tocchete, l'uomo è stato appena di indaracesta, figli miei, non lo tocchete, l'uomo è stato appena di indaracesta, figli miei, non lo tocchete, l'uomo è stato appena di indaracesta, figli miei, non lo tocchete, l'uomo è stato appena di indaracesta, figli miei, non lo tocchete, l'uomo è stato appena di indaracesta, figli miei, non lo L'umur è sempre della mamma, dalla sera alla mattina, dentro un cuore e non rispira, cari figli non vogliono mangiare. Figli mi a sta l'ultima linda cesta, figli non lo tocchi, un'altra cia a me se lo sento, è sta si vincendo la mamma. L'umur è sempre della mamma, dalla sera alla mattina, dentro un cuore e non rispira, cari figli non vogliono mangiare. Lo segno, significa che l'ha segnato e l'applauso come se fosse una ponte. Da, l'endimento c'è pronto. Grazie. 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 Grazie.